Alcuni giorni fa il Papa ha visitato il Dicastero per la Comunicazione del Vaticano e ha fatto una domanda che ha catturato l'attenzione di molti. Quanto sono ascoltati i media vaticani? È una domanda di grande importanza in realtà, perché in fondo interroga su quella che è la missione dei mezzi di comunicazione della Santa Sede, che come sappiamo in realtà costano molto ed incidono moltissimo significativamente sul budget della Santa Sede. Ovviamente la Chiesa non può fare a meno di questi mezzi di comunicazione, sarebbe un grave errore nell'atmosfera mediatica di oggi, così densa e ricca di messaggi in tutte le direzioni. Cosa fanno i media vaticani? Informano sulla posizione ufficiale della Santa Sede. Ovviamente come per tutti i media che sono finanziati da istituzioni o da privati, il loro raggio d'azione è limitato dalla loro ragione sociale. Nessuno paga per avere una radio o un giornale che poi gli creano problemi in casa. Il direttore del quotidiano Il Giornale non sarà mai un nemico della famiglia Berlusconi. E via dicendo. La stampa completamente libera, come tutti sappiamo, non esiste. La stampa e i mezzi di comunicazione sono sempre legati agli interessi di chi li finanzia. Ecco perché è utile che ci siano altri mezzi di comunicazione al di fuori di quegli ufficiali, non direttamente legati con alcune istituzioni o con certi potenti imprenditori. Noi non crediamo nel paradiso in terra, quindi sicuramente c'è molto da dire anche in negativo su quello che accade in Vaticano. Perché il Vaticano, come tutti sappiamo, è anche un centro di potere. Molti scandali degli anni recenti testimoniano una esigenza di purificazione e, come disse il Papa Francesco tempo fa, era un bene che ci fosse chi portasse allo scoperto il marcio. Alcuni accusano certi media al di fuori della galassia ufficiale di rancore e malanimo, di avere una visione comunque negativa di tutto quello che viene fatto in Vaticano sotto questo pontificato. Ora, non è un mistero per nessuno che nella Chiesa c'è una forte divisione e questo non è un fatto recente. Ma io immagino sia un bene che ci siano giornali, blog e siti internet che portino allo scoperto il malcontento, che in questo modo può essere affrontato e si spera anche per quello che è possibile compreso. Molto, molto peggio quando gli scontenti, che vi assicuro non sono pochi, vengono repressi e devono agire nell'ombra.